Anticipazioni. Endless Love. La decisione di Mujaygan. Nel prossimo episodio di, Endless Love, assistiamo a sviluppi drammatici che coinvolgono Mujaygan, la madre di Emir e Asu. Dopo un lungo periodo in coma, Mujaygan si sveglia solo per scoprire le continue malefatte dei suoi figli, in particolare l'ossessione di Emir per Nian. Mujaygan è profondamente delusa dal comportamento del suo primogenito, e tenta di persuaderlo a rinunciare al suo amore ossessivo per Nian. Che vede come un danno per l'unità familiare. Tuttavia, Emir sembra irremovibile. Convinto più che mai di poter costruire una felicità familiare con Nian. Nonostante questo significhi distruggere Kemal. Il vero amore di Nian. La situazione si complica ulteriormente con la rivelazione della morte di Asu. Che Mujaygan teme possa essere stata causata proprio da Emir. In preda alla disperazione, Mujaygan prende una posizione ferma e inaspettata. Si schiera apertamente con Nian e Kemal. Con forte determinazione, avverte Emir. Lascia stare quell'uomo. Kemal soidere non passerà un giorno in prigione a causa dei miei figli. Me ne andrò per sempre se fai del male a quell'uomo. Questa ultimatum shock di Mujaygan sarà sufficiente a cambiare il corso degli eventi? O Emir continuerà nella sua spirale distruttiva, riscando di perdere sua madre per sempre? Non perdete i prossimi episodi per scoprire come si evolverà questa intricata trama.